Buon mercoledì primo febbraio. Prima di tutto esprimo la mia indignazione, il mio sconcerto, non la mia sorpresa, c'era da aspettarselo. Ancora una volta, coloro i quali si asservano alle ragioni del profitto e dell'industria in nome della scienza, stanno spadroneggiando sui media dicendo che il vino è un alimento liquido. Mentendo spudoratamente, non è un alimento. Il vino contiene una sostanza tossica che si chiama alcol etilico. Addirittura arrivano a dire che piccole dosi di vino che contengono alcol etilico possono essere protettive per la salute e che se sei a stemio corri rischi. Queste scemenze, pensavamo di averle superate e messe alle nostre spalle. Qualche decennio fa gli appaiono in occasione di una semplice azione governativa da parte dell'Irlanda che vuole allertare i consumatori. Semplice allertamento che non avrà delle conseguenze significative sui profitti che l'industria fa, su tutte le bevande a contenuto alcolico. Profitti colossali. Ma noi poi paghiamo un prezzo rispetto a queste scemenze. Quello di abitare in un paese che ha nel suo governo una istanza di sovranismo enogastronomico. È un attacco all'Italia. Altra scemenza. Sul manifesto di ieri vi era un articolo nel quale si mette in evidenza come nel nostro paese il costo delle bollette incida del 30% sugli stipendi. E questa osservazione allarmante, senza alcun dubbio, viene affiancata al fatto che le nostre case sono costosissime. Difficile acquistarla, visti gli stipendi e anche gli affitti sono piuttosto elevati. Però sono case per il 75% del patrimonio immobiliare costose e fonti di spreco. Abbiamo assistito all'elemosina data scandalosamente anche e soprattutto i ricchi che hanno messo a posto le loro dimore, rendendole ancora più preziose e costose. Il 110% che di fatto ha favorito un settore edilizia. Per carità, nulla da dire. Forse i lavoratori nel campo dell'edilizia sono aumentati, ma non credo che siano stati ricompensati in modo proporzionale agli introiti che l'edilizia e la sua industria ha incamerato. Grazie anche a un percorso speculativo, i prezzi dei prodotti necessari all'edilizia sono cresciuti esponenzialmente e insieme anche al costo dell'energia hanno trascinato l'economia verso una inflazione inarrestabile che di fatto impoverisce la popolazione. Due elementi dunque. Sovranismo enogastronomico, favorire i ricchi e togliere i poveri. Queste sono le due realtà che oggi stiamo vivendo. Questo mi porta a essere indignato, ma indignarsi non basta. È necessario alzare la testa, assumere una postura dignitosa, di ribellione necessaria, una ribellione che costruisca la pace e la pace non può essere fondata che sulla giustizia sociale, sull'equa distribuzione delle risorse. A questo punto mi chiedo che rapporto intercorre tra l'esperienza del club nel suo percorso di crescita e maturazione e di tentativo di cambiare la cultura esistente e questa contingenza politica che ci parla di ingiustizia sociale serpeggiante e allo stesso tempo foraggiata non solo da questo governo, anche da governi precedenti, ma che questo governo esprime in sommo grado perché tenta in tutti i modi di desertificare le risorse che contribuiscono al bene comune, vogliono privatizzare la sanità, cioè ricondurla nel terreno del profitto. Perché questo mescolamento tra liberadismo dissennato, che chiamano liberismo, liberi tutti senza lacci e lacciuoli e contemporaneamente protervia e arroganza nei confronti dei deboli, verso i quali si esprime la propria tendenza repressiva che non ha a cuore la libertà autentica, quella che si costituisce nella relazione. Ma non sto qua a fare una dissertazione politica su questo governo. Il governo parla da sé e mostra con evidenza ciò che forse non vogliamo neppure vedere. Mi riferisco solo oggi alla dimensione dell'esperienza del club, in questo contesto storico nel quale non si fa una connessione tra disagio spirituale, mentale ed esistenziale e condizioni di vita alla quale anche noi contribuiamo con un certo grado di responsabilità. Perché per poter accedere a una visione radicalmente diversa e cambiare la cultura dobbiamo porre mano ai nostri comportamenti, ai nostri stili di vita, al nostro modo di vivere, al nostro rapporto con l'imperfezione che è il nostro elemento costituente l'esistenza. Se l'imperfezione contemporaneamente abbiamo di fronte a noi un'offerta di perfezione irraggiungibile che ci stordisce, disorienta il nostro sguardo, paralizza i nostri comportamenti, addirittura ci fa sentire in colpa per la perfezione che non abbiamo, quella perfezione che è presente nella pubblicità, nelle narrazioni delle persone che si vergognano della propria condizione pur di apparire, e questo lo vedete con maggiore chiarezza nei social, frasi buttate là, fotografie truccate, la costituzione di una perfezione immaginaria che parla del disagio delle persone. Penso che oggi la psichiatria, la psicologia, se vuole fare una diagnosi corretta non può trascurare i profili social, le foto del proprio profilo, del proprio stato. Parlano in maniera palese di quale siano i presupposti a partire dai quali è nata quella sintomatologia, quel disagio spirituale ed esistenziale. E questo modo di vivere sta costituendosi come una abitudine. Ci siamo inventati la parola dipendenza, ci siamo inventati la diction, ci siamo inventati un po' di tutto, la distinzione tra bevitori problematici e quelli virtuosi normali. Continuiamo a costruire categorie per escludere e autogiustificare le nostre mancanze all'insegna del fatto che l'autorappresentazione di sé si misura con una costruzione piuttosto bizzarra nella quale costituiamo la normalità. Noi siamo la normalità, gli altri sono i devianti e i sintomatici. Papa Francesco ha il commento del Vangelo di oggi, il quale si esprime con nettezza che nessuno è profeta in patria. Ognuno nella patria, cioè nella propria condizione esistenziale, resta inascoltato, ma c'è un aspetto che voglio sottolineare. Noi stessi nella nostra condizione non accogliamo la dimensione profetica che c'è in noi, silenziamo quelle istanze di ansia, di angoscia che mettono in evidenza come siamo nel qui ed ora. Per non ascoltare quell'ansia e quell'angoscia che si arpeggia dentro di noi, che cosa facciamo? Le tacitiamo. Attraverso farmaci, attraverso una narrazione che si traduce in una diagnosi, le costituiamo come elementi disturbanti, non come stimoli per cambiare. Una sollecitazione a cambiare che parte da noi stessi e che resta inaudita, inascoltata, resta invisibile. Voglio solo condividere questa mattina con quanti hanno la pazienza di ascoltare e sopportare le mie letture piuttosto traballanti a causa del mio difetto di vista. Questo passaggio di Papa Francesco relativamente al non essere riconosciuti profeti in patria, non riconoscere in noi la dimensione della perturbante profezia che abita i nostri cuori, le nostre menti. Abbiamo ricordato in questi giorni la dimensione del non sprecare, non generare scarti, non scartarci, non sprecare noi stessi, non sprecare le risorse che ci sono negli altri e non scartarli. Accogliere la dimensione della bellezza, dell'armonia come dono che sorge, germoglia nelle nostre vite. dobbiamo semplicemente coglierlo, vederlo, ascoltarlo, coltivarlo ogni volta che lo intuiamo. Il dono, non un'orgogliosa autosufficienza che ci fa immaginare di essere i creatori della bellezza e della normalità. Nulla di tutto questo. Vedete anche questa realtà della scandalosa polemica intorno a un atto semplice, allertare i consumatori sugli effetti tossici che ci sono nelle bevande alcoliche, comprese il vino. Questo rappresenta un vulnus esistenziale nel quale, lo dice la scienza, è una grande fesseria perché la scienza non dice proprio un granché. Ha dubbi, cerca di sorprendersi, cerca di non dire mai le cose stanno così. Sembrano così ma non sono disposto a mettermi al servizio del potere per confermare le sue bislacche teorie finalizzate al profitto. Quindi non fatemi dire che l'alcol etilico contenuto nel vino addirittura potrebbe avere un effetto protettivo. Qui si fa una grande confusione perché le etichette devono semplicemente rappresentare una descrizione di quali sono gli elementi che costituiscono quella bevanda alcolica e mettere in evidenza che uno degli elementi, l'alcol etilico, è semplicemente dannoso per la salute ed è anche una droga perché è una sostanza psicoattiva. No, vogliono che sia scritto che quella bevanda ha un valore nutrizionale e protettivo per la salute. Ma per quale ragione dobbiamo raccontare balle? Per il semplice motivo che non siamo capaci, quando abbiamo avuto il dono di poter fare una carriera accademica, non siamo capaci di vivere indisponibili all'asservimento al potere, liberi di essere umili e nel dubbio. Questa è la scienza. Tutto il resto è pura propaganda e servilismo nei confronti del profitto. Ma questo diventa poi un elemento che caratterizza il modo attraverso i quali i media ha altrettanti elementi che sono assoggettati alle ragioni del profitto. I ricchissimi giornalisti che fanno i talk show e che hanno di fatto smesso di fare i giornalisti fanno gli attori e le attrici di uno spettacolo indegno. Lo abbiamo visto nel corso della pandemia, lo vediamo anche in questa occasione, marginale per carità, lo vediamo anche relativamente alla questione della guerra. I media non sono più credibili, non c'è un giornalismo che semplicemente vada a esplorare la realtà per scoprire ciò che non sa. Oggi il giornalismo è sedentarietà, non è movimento, ma questo è un altro argomento. Torno alla questione aperta, dalla ricchezza derivante dal fatto che ci predisponiamo esistenzialmente nella vita del club a vivere l'esperienza della evidenziazione delle risorse che ci sono in ciascuno di noi. Pronti a condividerle, perché non sono una nostra proprietà, sono un dono, sono il bene comune, sono le risorse che ci sono in noi, ci sono state donate e siamo pregati di non sprecarle. Ma vi deve essere una precondizione, cancellare dal nostro orizzonte l'idolatria della perfezione che costruiamo a nostra immagine e somiglianza. In realtà noi rispecchiamo la perfezione che ci è imposta per diventare consumatori obbedienti e nell'essere consumatori obbedienti diventiamo anche praticanti di abitudini insensate e schiavizzati. Quindi voglio sottolineare oggi questo aspetto dell'abitudine e del non riconoscimento della profezia che c'è in noi e nel prossimo perché è sollecitante un processo perturbante che mette in discussione tutte le nostre realtà che rappresentano la nostra identità bloccata, non più evolutiva. Qui ci sarebbero tanti altri argomenti da affrontare, lo faremo in parte anche domani nella scuola, che tratterà il tema del vedere e credere, del credere e del vedere, del sorprenderci o meno di fronte a ciò che la realtà ci rappresenta e che noi non riusciamo a percepire. Molto spesso riteniamo di aver rappresentato in modo molto oggettivo la realtà, poi la realtà ci sconferma il piacere di essere sconfermati, pensavo che lui fosse un alcolista. Sono andato al club e ho dovuto prendere atto che semplicemente si chiamava Giovanni, si chiamava Maria, erano persone, semplicemente persone. Io che mi auto rappresentavo come vittima di quell'alcolismo. Mi chiamo Pietro, mi chiamo Giovanna e nient'altro sono che una persona che molto probabilmente ha qualcosa da dirsi per mettersi in discussione e si sorprende di aver vissuto per tanti anni indisponibile alla relazione. Il cosiddetto alcolista e i suoi cosiddetti accompagnatori nel club dovrebbero sorprendersi per incontrare ciò che non avevano previsto perché si immaginavano che fosse un luogo di una terapia di gruppo nella quale persone virtuose accompagnavano i devianti di turno per redimerli e si sorprendono nel trovare la gioia di mettersi in discussione insieme per affrontare un nuovo percorso di vita, un nuovo sentiero. Si scopre nel club che la nostra vita non è statica, è in movimento, è costantemente tesa verso un traguardo che forse non raggiungeremo mai, ma ciò che conta, come ci racconta Itaca, l'isola che genera quella splendida poesia Itaca, ciò che conta è il viaggio, non ha importanza la meta, come sarà, potrebbe anche essere deludente, ma quel viaggio è la risorsa fondamentale per dare corpo alla vita, per vivere la nostra esperienza di naturalità nel ciclo della vita. Questa è l'intensità passionale della vita del club che deve trovare conforto anche nelle affermazioni che sorprendentemente troviamo in tanti campi dell'esperienza umana, nella fattispecie quella di un papa che commenta un brano del Vangelo. Quando facciamo prevalere, mi scuso ancora per la mia difficoltà di lettura, pazienza, ma io ci provo lo stesso, quando facciamo prevalere la comodità dell'abitudine e la dittatura del pregiudizio, è difficile aprirsi alla novità e lasciarsi stupire. Quanta fatica si fa nel club a abbandonare la prevalenza della comunità dell'abitudine. Io sono normale, lui è deviante. La dinamica relazionale abitudinariamente si è costituita intorno a questa modalità rappresentativa della relazione. Io normale, lui deviante. E questa abitudine poi è consolidata e confermata da un sapere professionale che mi costituisce come soggetto normale e l'altro come alcolista. Questa è una abitudine esistenziale e anche di definizione professionale di una realtà che non sembra contenere aspetti sorprendenti. Gli alcolisti sono tutti così bugiardi, così come i giocatori d'azzardo o i depressi, sì, sono malati insopportabili perché gettano ombra di tristezza nelle case. Quindi interveniamo radicalmente con farmaci efficacissimi. Abitudine consolidata che impedisce, attraverso un consolidato sistema di pregiudizi, impedisce di metterci in discussione perché siamo sottoposti alla dittatura dei pregiudizi. E questa dittatura dei pregiudizi contiene in sé anche quel sapere professionale e accademico presuntuoso che non ha più capacità di stupirsi nei confronti della nostra radicale ignoranza, nel nostro rapporto con la lettura della realtà e della natura. È difficile a questo punto, quando siamo ingabbiati nella dittatura del pregiudizio e nella prevalenza delle nostre comodità, dell'abitudine, è difficile aprirsi, aprirsi alla novità e lasciarsi stupire lo stupore. Poi gli esseri umani hanno imparato a usare gli stupefacenti per non correre il rischio della novità e dello stupore autentico, che nasce da una osservazione della natura e della vita liberata da quei pregiudizi che fanno sì che noi viviamo in una sostanziale dittatura di una verità posticcia che si chiama pregiudizio. Ma senza apertura alla novità e soprattutto, ascoltate bene, dice Papa Francesco, è molto attento su questo passaggio, come sempre. Apertura alle sorprese, per lui ovviamente, di Dio. Per chi non crede, alle sorprese della vita e della natura. Senza stupore la fede e la fiducia del lasciarsi andare è un'osservazione attenta di ciò che accade per chi non crede. La fede e anche la scienza diventa una litania stanca che lentamente si spegne e diventa un'abitudine. È bellissimo questo passaggio. Fede, io aggiungo anche scienza, diventa, se non è più capace di stupirsi, perché ingabbiata nei pregiudizi e nel prevalere delle abitudini consolidate. Un'abitudine sociale, la fede come abitudine sociale, la scienza come abitudine sociale, lo dice la scienza, la quale ha perso il gusto di ricercare e di sconfermarsi costantemente, la bellezza di sconfermarsi. Ah, non pensavo fosse così, che bello che non sia come mi ero immaginato. Però quel come mi ero immaginato mi confortava in una abitudine dittatoriale. Non sempre siamo pronti e disponibili alla libertà. Molto spesso amiamo la schiavitù, in fondo abbiamo usato questi termini, addiction vuol dire essere schiavi, ma non è una categoria applicabile a un gruppo di persone con comportamento dissipativo. Siamo tutti schiavi perché non siamo capaci di vivere l'intensità di una libertà fondata sulla relazione, una libertà che genera stupore e che ci sconferma costantemente, ci allontana dalle nostre abitudini consolidate. Ho detto una parola, dice Francesco, lo stupore. Cos'è lo stupore? Lo stupore è proprio quando succede l'incontro con Dio. Ho incontrato il Signore. Stupirsi per il non credente significa ho incontrato la vita e la natura. Mi ha sorpreso, mi ha scombussolato rispetto ai miei pregiudizi e le mie abitudini, perché in ognuno di noi vi è la potenzialità della scienza e la scienza è laddove si genera stupore. Leggiamo il Vangelo. Tante volte la gente che incontra Gesù e lo riconosce sente lo stupore per i credenti. Ma quante volte accade che nell'incontro con l'altro, che abbiamo pregiudizialmente collocato in una categoria diagnostica, nella sacralità della sua persona che è nell'altro che incontriamo, quella sacralità quale quella persona considerata deviante attinge proprio attraverso la dignità della sua persona. Quante volte ci stupiamo, siamo disposti e ci apriamo allo stupore. E' come il certificato di garanzia che quell'incontro è vero, non è abitudinario. Il certificato di garanzia della scienza è nello stupore, nella sconferma. È il certificato di garanzia che quel dire, quel fare, quel procedere, quel metodo è vero ed è autentico e questo ci riporta alla necessità di reinvestire, non sprecare l'occasione del club e dei suoi momenti di educazione ecologica continua. Ma pertanto domani al club veniamo con uno stato d'animo da protagonisti, da scienziati, sì da scienziati, che incontrando gli altri, sentendo le storie, si stupiscono in cuor loro perché non si erano mai immaginati che la vita potesse essere così anche laddove vi era la tragedia, germogliava la speranza anche laddove vi era la rassegnazione. Germoglia il senso profondo di rivolta che genera movimento per costruire una pace fondata sulla giustizia e in questo tempo nel quale assistiamo a questo indecente spettacolo relativo alla difesa oltremisura dell'enogastronomia sovranista. Abbandoniamo anche la nostra stessa indignazione e incominciamo a stupirci, stupirci sì perché dietro a queste scemenze si nasconde e germoglia un altro mondo possibile, ma questo mondo possibile che germoglia ci chiede una disponibilità al metterci radicalmente in discussione relativamente ai nostri stili di vita, ai nostri comportamenti. Buona giornata a tutti, nella speranza che in ogni istante si possa fare esperienza di stupore. Buona giornata a tutti.